Dalle prime luci dell'alba i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo due provvedimenti di sequestro emessi dal Tribunale di Roma nei confronti di elementi di vertice del noto gruppo criminale Fasciani per un valore complessivo pari a circa 20 milioni di euro. Le indagini economico-patrimoniali condotte dagli specialisti del GICO o del Nucleo di Polizia Tributaria della Capitale e dal secondo gruppo di Roma sono state eseguite nei confronti dei fratelli Carmine e Terenzio Fasciani, tuttora detenuti. Più nel dettaglio è stato accertato come i due abbiano progressivamente inquinato l'economia legale lidense attraverso la costituzione e acquisizione di svariate società operanti in diversificati settori, sfruttando numerosi prestanome. In alcuni casi si è assistito a vere e proprie joint venture tra i fratelli Fasciani e sino ad oggi poco conosciuti imprenditori lidensi che hanno tentato di camuffare l'illecito patrimonio accumulato. Obiettivo del clan è stato quello di investire in attività quali la ristorazione e la gestione di stabilimenti banneari e discoteche che meglio e più velocemente si prestavano al reimpiego dei proventi illeciti. I Fasciani hanno dato così prova di possedere elevate capacità imprenditoriali e societarie. Ad esempio nel perseguire le loro finalità illecite hanno fatto ricorso ai nuovi strumenti societari, le cosiddette SRL a un euro, introdotti con la recente riforma del diritto delle società di capitali. In definitiva è stato accertato come tutti gli investimenti societari individuati facessero capa ad un unico centro di interessi occulto gestito da Carmine Fasciani supportato dal fratello Terenzio. Ad essere sequestrati oggi sono 18 attività commerciali quali bar, ristoranti, panifici alimentari, 29 unità immobiliari, site tra Roma, Civita Vecchia e L'Aquila, 5 autovetture, rapporti bancari, postali assicurativi e azionari per un valore complessivo di 20 milioni di euro.